Giorgia Meloni, figura di spicco nel panorama politico, è stata recentemente oggetto di preoccupazione iniziale a causa di questioni di salute. Tuttavia, i risultati degli esami hanno gettato luce positiva sulla sua condizione fisica, indicando che si trova in buone condizioni. Nonostante ciò, i medici hanno raccomandato precauzioni, consigliandole di evitare situazioni stressanti e di non coinvolgersi emotivamente in dispute politiche nei prossimi giorni. Questa misura precauzionale è stata adottata per favorire una pronta guarigione, considerando che un ambiente tranquillo può contribuire al recupero ottimale. In linea con tali indicazioni, è stato imposto a Meloni di dedicare del tempo al relax e al riposo. Questa prescrizione mira non solo a garantire il benessere fisico ma anche a ridurre qualsiasi pressione aggiuntiva sulla sua salute. I sostenitori della leader politica si uniscono nel formulare i migliori auguri per una pronta e completa guarigione, enfatizzando l'importanza di rispettare le indicazioni mediche per un recupero ottimale. L'annuncio sulla sua salute ha generato un senso di sollievo tra i sostenitori, i quali ora attendono con ansia il ritorno in piena forma di Giorgia Meloni nell'arena politica. La sua leadership è considerata fondamentale, e l'attenzione alla sua salute riflette la preoccupazione di coloro che condividono la sua visione politica.